e oggi andiamo a fare visite e dai o no e mori pure o no e dove andiamo come come e come cincilla non mi sta e da sapere come stai tutto il bravo no le minacce no dal dottore le minacce no proprio no chiaro non ci fate niente ci vuole qualcosa che sforza ho capito in realtà e le cose che funzionano sono le cose elastiche ma adesso non si possono portare però tenete i campi alti e l'altro